ragazzoli benvenuti in questo nuovo video siamo qui con la nuova prova del ptr di new world questa volta abbiamo provato anzi non questa volta sono appena entrato in realtà ho messo subito il volo alla build così sempre col mio solito stocco che ormai è la mia arma preferita poi vediamo ragazzi ho provato il nuovo dungeon state a vedere ma prima prima vi voglio invitare a mettere mi piace al video commentare se ne avete voglia e soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi per tutto il resto instagram e canale whatsapp trovate i link in descrizione come al solito godetevi il dungeon e beh ragazzuoli se ve lo state chiedendo dove si trova il nuovo dungeon si trova in grande breccia ora vi faccio vedere apriamo la mappa si trova qui proprio al confine al confine con il head and groove e ci sta eh alla fine in alternativa alla fucina ci sta che sia in grande breccia ma ora vediamo di farlo sto dungeon daje ci siamo ragazzi stiamo per entrare nel nuovo dungeon daje 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 aaaahhhhhh eeeh coloca qua uns d компании uns 3 o i come on boys let's go si si io mi hanno idea apposta ok si ho capito mezza vita oh mio dio l'ho visto cadere ma non ci sono mob ok ma non ci sono Fungent. Oh, è molto bene! oh soffi M***a se non fanno male Oh my god M***a se non fanno male No non fanno male Ok non è morto Si e io io chiedo le tempo Stiglio, prima. Molim, molim. Molto a chi... Ah, il suo altro c'è a a a a Sì ok orega alco è quasi o meno Non capisco perché devo prendere fuoco Questi stanno praticamente a rush Bisognerebbe fare qualcosa sicuramente Come, 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 come Go back, go back What's your boss? The normal, I don't know what you are What's your boss? dai ragazzi lo nuovo è che murolla per un male gana Oh no. Ma chi? Oh lol Ah cadere l'acqua si può perdere vita Non sto carci Non lo to, lo giusto ranno Oh questo cosa serve o qualcosa? Non sto carci Credo che bisogna accenderci per non subire danni da... Ah questi sono umani Quindi se sono umani Ok avrò la porta 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 Che ci sta Ma questo si può giocare sempre a me E c'è sempre la missione che puoi fare Il che non è malvagio In M1 Mica è mutato Si è mutato Ragazzi spero che Il dungeon vi sia piaciuto Spero che lo troviate abbastanza interessante Per tutto il resto ragazzuoli Mi potete anche scrivere su Instagram o aggiungervi Al canale whatsapp Commentare Soprattutto commentate Fatemi sapere cosa ne pensate Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi al canale Mi raccomando molto importante Lasciate un bel like al video Ragazzuoli io vi auguro Un buon proseguimento di giornata E ciao belli